Aiuti nipoti! Posso dire, tutti i programmi di intrattenimento d'Europa vorrebbero questo gioco ma voi avrete la fortuna di farlo in prima persona attente alla missione che è noi vi diamo le gambe di un ballerino e voi dovrete seguirle con il resto del corpo Anna D'Atangelo, come here, come here Oh, giustifichiamo la presenza! Giustifichiamo la presenza, grande! Ma perché ce l'ha con te, Scintilla? Perché ti sta provocando? È pigra, è pigra! È pigra, tenda alla pigritudine La pigritudine Allora, quando farei un duetto, invece di Giaulier, lo farai con Scintilla Preparati, eh! Allora, vediamo qual è il ballo che capita ad Anna D'Atangelo Scopriamolo insieme Io ne sto facendo le scale Ah, latino! Te gusta il latino? Sì, un po' di salsa Un po' di salsa? Ragucco, dipende E allora, vediamo cosa capita Sì, così, così Ma l'ho già partito! Brava! Oh mio, sei al contrario, adesso sei giusta Brava, non volare! Volteati! Ok, ok, svolta la cosa, svolta! Brava, 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 brava! No, fa molto ridere! Devo dire la verità! Qualcuno ha detto... Qualcuno ha detto... Lodovica! Snodata! Meglio della bambina dell'esorcista! È vero, perché sia svitata un paio di loro! Qualcuno ha detto Lodovica? Qualcuno ha detto che sembravi il santo? Allora, gente che va, gente che viene Fatima Trotta con Francesco Procopio! Vabbè, dai! Eh, venite, adesso ci rifacciamo! Ma perché con Procopio? Sei fortunato! Scusa, ma non stiamo andando un po' troppo a scendere di livello? Eh? Io ballo davanti! Si va sempre a salire, non a scendere di livello! No, sai cosa c'è? Che noi pensiamo che alla fine, se poi tocchiamo veramente il fondo, possiamo solo risalire e quindi questo ci aiuta! Che vuoi dire con questo? Ma perché sei qua fuori con le mani così? Che ballo davanti al televisore! Per far vedere che tu sei! Le mie gambe sono migliori di queste! Eh, certo, certo! Vai dietro, vai dietro, dammi letta, vai dietro! Allora, eccoli qua! Si sono appena sistemati! Fatima Trotta! Eh, che schifo! Con Francesco Procopio! Fatima ti aiuta, che è ballerina! Vediamo cosa mi tocca in sorte! Che c'è fa, che c'è fa! Latinoamericano! Quei là! Latinoamericano! Posso dire, sembra un gigante dietro a quel televisore, un gigante! Ma lui non c'è! Non te preoccupi... Eh no, allora, attenzione, no, te ne doi occhi a me! No, 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 nel latinoamericano, no, aspetta, se... Nel latinoamericano, in questa coreografia... No, adesso tu ti metti di lato così... Ma perché... Ad un tratto entreranno le gambe tue e tu andrai... L'effetto sorpresa! ...a compilare, a completare, scusami che sto parlando! L'effetto sorpresa! L'effetto sorpresa! Posso dirti? Parti! Svantaggiando! D'ammaretto e nuvantaggi! Vai! Prego, via con il latinoamericano! Por favor, signorita! Vai, sei! Sì! Vieni! 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 Vieni ragazzo! Vieni ragazzo! Allora... Vieni ragazzo! Allora... Vieni ragazzo! che ci ha fatto più vivere di tutti. Bravi sì, andate a posto, bravi, bravi. Gazzolini. Allora, come dicevamo... Un affondamento con le gambe. È bene, è bene. Ma fatti, fatti tu. E sono i fatti miei. Adesso però devo dire una cosa molto importante, no? L'aveva notato anche il nostro Gianluca Fubelli, detto scintilla. Sì. Stiamo sempre andando più verso il basso. Vieni, vado, cattego, si portiamo il fondo. Vieni, Gianluca, vieni. Non posso porteggiare. No? No. Non ti vuoi far peggio di ProCroprio. 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 Luca. Fa saluto. ProCroprio. Ci sono anche, tra l'altro, da qualche minuto, dei veri e propri, posso dire, grandi urla e proprio incitamenti, quasi da stadio, assolutamente immotivabili. Non ci capiamo, ma mi fa piacere. Vediamo che ballo ti tocca. Scusa. No, no, un momento. Sì, scusa. Stanno i cavi dietro la televisione Stanno i cavi dietro la televisione Non è che ha scindillo po' no Bravo, faresti be' attenzione Ti chiedo un favore Vieni dopo un grande momento di spettacolo Vieni dopo un grande momento che ci hanno regalato Francesco e Fatima Tu hai un ballo di Michael Jenkins Stupendo, non ci deludere Smooth Criminal, via! Uuuuuh Vibrofilo, vibrofilo Aspetta Uuuuh Uuuuh Bravo Bravo Bravo, bravo, bravo Che sono l'unico che ha intonato La maglietta e i pantaloni Ma è vero L'unico Vieni, vieni, vieni Sono il tuo eroe Sono il tuo preferito Eh si, sei mio preferito Vatti a cedere Allora, attenzione Il medico mi ha detto Non lo contraddire È una fase molto particolare quella della sua vita Attenzione È vero, ok? Forte, forte Posso tornare? Certo Prossima puntata Prossima puntata Torni con noi